Sono molteplici i servizi presentati e introdotti negli ultimi anni dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo, sede della Commissione regionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, per sostenere le aziende e fornire loro strumenti pratici per l'individuazione precoce di elementi di crisi e intervenire di conseguenza. Abbiamo diversi versanti di intervento. Il primo è quello della prevenzione. La prevenzione vuol dire offrire un portale da parte della nostra società consultile in extra, all'interno del quale ogni impresa può inserire tutti i dati della sua azienda e trovare poi delle soluzioni, vedere prima di tutto come si trova collocata sul mercato e vedere se ci sono delle difficoltà nei flussi finanziari che possono essere tempestivamente risolte. Presentato il bando per gli sportelli decentrati sulla crisi d'impresa, il quale mette a disposizione importanti risorse per la realizzazione di attività specifiche nel campo del supporto alle imprese per la prevenzione della crisi d'impresa. L'obiettivo è divulgare strumenti e conoscenze necessarie a monitorare e consolidare l'equilibrio economico-finanziario e organizzativo delle PMI, delle province di Venezia e Rovigo. I sportelli che hanno l'impegno di affiancare le imprese, facendole utilizzare una suite finanziaria, una suite digitale, che è uno strumento del sistema camerale, al fine di fare una fotografia che possa evidenziare la loro situazione economica, patrimoniale, organizzativa e di merito creditizio.